Sono le 11 e 42 del 3 ottobre 2023. Questo è uno dei classici sendieri che tutti percorrono sul Monte Penna. Bene, io faccio l'insolito sendiero. No, più che sendiero, qui il sendiero non c'è. Ecco qua. Quindi ho cambiato il tragitto e il percorso. Però già da qui vediamo l'area Fucenze. Un bellissimo panorama. L'estrema periferia nord-est di Luco dei Marzi. Allora est e sotto. E il nord cos'è? E il sud? Una piccola parte di Luco che si vede. Montelabrone. E qui, guardate com'è bello. Magnifico, eh? Bella giornata. Le rifrescate un po'.